Una stella che gira due volte in un'ora attorna un buco nero. E' lo straordinario spettacolo davanti al quale si sono trovati i telescopi spaziali Chandr Nuster e i radiotelescopi terrestri Atka. La stella sembra trovarsi a una distanza incredibilmente ravvicinata. Circa due volte e mezzo quella Terra Luna. Mai gli astronomi erano riusciti a catturare una danza orbitale così stretta tra un buco nero e la compagna che inevitabilmente sta divorando. Siamo nei soborghi della Galattia, a circa 15.000 anni luce dalla Terra. Nel cluster globulare 47 Tocane. Questa sorgente cosmica era già nota agli scienziati. Si chiama X9. Inizialmente era considerata un sistema binario di una nana bianca e una compagna simile al Sole. Ma le osservazioni più recenti fanno invece supporre che si tratti di un buco nero intento a cannibalizzare una nana bianca. I dati di Chandr Nuster avvalorano adesso quest'ultima ipotesi. I risultati sono in corso di pubblicazione su monthly notices of the Royal Astronomical Society. Grazie. 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 Grazie.